Siamo arrivati alla fine di questa seconda semifinale e come sempre noi chiudiamo con il grande tributo al nostro caro amico, maestro, poeta, scomparso, Lucio Dalla. Allora, eccoci qua per il gran finale della seconda semifinale della dodicesima edizione di Premio Lucio Dalla e come al solito noi chiudiamo così. Caro amico ti scrivo, così mi distrago un po', e siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando sei partito c'è una grossa novità, l'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Si esce poco la sera, compreso quando è festa, e c'è chi ha messo dei sacchi di sabbia vicino alla finestra, e si sta senza parlare per le intere settimane, e a quelli che hanno niente da dire del tempo ne rimane. Ma la televisione ha detto che il nuovo anno porterà una trasformazione, tutti quanti stiamo già aspettando. Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno. Ogni Cristo scenderà dalla croce, anche gli uccelli faranno il ritorno. Ci starà da mangiare le luci tutto l'anno, anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo fanno. E si farà l'amore, ognuno con egli va. Anche i preti potranno sposarsi, ma soltanto a una certa età. E senza grandi disturbi qualcuno sparirà. Saranno forse troppo furbi e cretini di ogni età. Vedi caro amico, cosa ti scrivo e ti dico, e come sono contento di essere qui in questo momento. Vedi, 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 vedi caro amico, cosa si deve inventare, per poter riderci sopra, per continuare a svelare. E se questa notte passasse in un istante. Vedi carico mio, dove direbbe importante, importante, che in quest'istante ci sia anch'io. Il mio che sta arrivando, c'è un altro passaggio che ti dà. E soprattutto ringraziamo il piccolo teatro Sampio e Sampio da Pietralcina per averci dato questa opportunità nell'emergenza meteo. Grazie a tutti e in finalissima, ciao Roma! Grazie a tutti.